Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per lo staff di ottififitalia.com e oggi sono qui a portarvi il secondo episodio della carriera con Nottingham Forest chiedo scusa se nel primo episodio non c'è stata la webcam in realtà non so se c'è stata o no perché ho avuto dei problemi col file ora dovrebbe essere tutto a posto ma comunque non era un episodio così tanto importante cosa abbiamo fatto? gli avevo detto di lasciare dei consigli sotto il video però avevo anche detto che probabilmente questo qui l'avrei registrato subito dopo l'altro quindi è ovvio che non ho potuto ascoltarli ancora e io più che altro volevo un attimo vedere una cosa volevo vedere come si fanno a chiedere i soldi o più o meno, ecco qui c'è il budget, abbiamo 6 milioni scusate abbiamo 6 milioni non so come cazzo si chiedono i soldi vediamo se qua, no? vabbè poi lo scopriremo perché qualche soldo ci potrebbe interessare e ho aggiunto dei giocatori alla lista preferiti giocatori che potrebbero essere sì conosciuti sì no, alcuni no però proviamo, dovremo prendere il più possibile perché sono tutti giovani tranne uno che già avete da lì che servirebbe per il brand e sarebbe un sogno portare qui allora partiamo dai portieri ho inserito Scuffè, Bellenreuter che è il portiere dello Schalke giovanissimo uno dei più giovani dei portieri in Champions e Dragoschi appena acquistato la Fiorentina tutti lo conoscete si prende un po' in tutte le carriere però potrebbe essere interessante come difensore ho promesso solamente un terzino perché comunque ce n'erano tanti Buñuel dello Sasuna davvero davvero forte e interessante mentre come difensore abbiamo Yao Gai dall'Inter forse qualcuno di voi lo conoscerà soprattutto magari dei posi dell'Inter e Kipembe che sembra quasi Coman del PSG ottima promessa francese ci punterà abbastanza ho inserito anche Lazzaro del Salisburgo giocatore che qui è esterno destro ma in realtà gioca ala non può giocare addirittura a prima punta e lui Steven Gerrard ho notato che in questo FIFA i giocatori che comunque sono avanti con l'età sono diciamo prossimi al ritiro realisticamente non valgono tanto qui Gerrard vale un milione e quattro lo potremmo prendere addirittura a meno guadagna pochissimo tipo diecimila di stipendio quindi per il brand dato che noi dobbiamo vendere magliette dobbiamo fare i soldi da quello un giocatore come Gerrard inglese che magari si prova a rilanciare dopo questi anni le Galaxy in un campionato minore potrebbe essere davvero davvero interessante ha inserito anche Nukuri sempre dell'Inter e Kennedy che può fare praticamente tutti i ruoli può giocare terzino può giocare centrale di centrocampo può giocare ala prima punta a volte su di lui ci è molto molto dobbiamo provare a prenderlo poi abbiamo Baccali del Valencia questo lo conoscerete quasi tutti e Pavon del Boca Juniors ho aggiunto anche come attaccante Dominic Solan che è sempre del Chelsea giovanissimo anche lui la savistica che vedete lì mi sembrano abbastanza buone e Jason Vargas 18enne dell'estudiant adesso anche lui può essere molto interessante chiediamo informazioni per un po' di di questi giocatori e diciamo cominciare dai portieri avanziamo subito e poi ci appresteremo già a giocare la partita con il Cesena allora arrivano 6 mil Baccali 6 milioni non è male Kipembe 7 forse un po' troppo Faller Raider 5 Vargas si è appena unito e non ce la vogliono dare però però vediamo Buñuel che è ottimo 2 milioni e 9 mentre Yao Guy 1 a 7 allora io mi fonderei subito su Buñuel offrendo un milione che comunque è una cosa abbastanza scarsa e diamo in cambio anche Friatta anzi no non offro un milione offro offro cosa sto facendo rilassati Alfredo non un milione voglio offrire 800 mila più Friatta che comunque dovrebbe essere una farsa circa un milione e mezzo potrebbe essere qualcosa di interessante mentre per Yao Guy io offro loro mi chiedono un milione e 7 io offro 700 mila sarebbe buono anche se prendono un po' tanto di stipendio circa 20 mila per uno provare a prendersi uno dei due allora per Feller Raider vogliono 5 milioni però sinceramente è giovane ma io 5 milioni per questo qua non li vorrei spendere Jordan Smith è un po' troppo scarso proverei quindi ad inserire il nostro secondo portiere sperando che ci sia non c'è qui non ho capito bene perché vabbè proviamo a inserire lui questo portiere qua e fare un'offerta di un milioncino vicino è un'offerta bassissima soprattutto per quello che ci hanno chiesto e mentre per Baccali un giocatore che mi piace tanto proverei a offrire 2 milioni più qualcuno che magari non usiamo vediamo chi può essere tipo questo Osborne che comunque è un esterno e magari potrebbe non servirci ecco stessa offerta io la farei per no perché per me non faccio questa offerta perché è centrale però andrei a fare sempre 2 milioni e andrei con un difensore centrale che non usiamo che magari può essere Hobbs sono offerta comunque 3 milioni non si avvicina certo ai 7 che chiedono comunque prende tantissimo prende già 43 milioni stipendi a 20 anni però noi ci proviamo non non vuole certo provarci allora Kennedy 9 milioni un po' troppo Pavon 5 e mezzo si potrebbe fare scuffette 9 scuffette mi sa chi ci saluta andiamo subito alla partita col Cesena per la partita col Cesena comunque la seconda maglia è bellissima mi piace troppo la partita col Cesena che dovrebbe essere in serie B non cambio niente voglio lasciare questa squadra qua anzi no a Somba Longa lo lascio però proviamo Dumitru perché avevo detto che volevo provare puntarci su di lui e magari 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 Vax Pereira si potrebbe andare si lasciamola così usiamo questa squadra devo dire la seconda forse partita che io gioco contro il computer quest'anno quindi gioco solamente online non so proprio come possa essere la situazione spero che vada tutto bene lascerò solamente gli highlights magari dei golli o dei tiri più importanti perché è una partita di prestagione non è nulla di importante e niente andiamo subito in partita prova l'1-2 con Kasami Kasami la tiene serve a Somba Longa attenzione che si è proposto a Lasburi Lasburi contro il portiere è da solo Lasburi a incrociare Lasburi il primo gol del nostro numero 10 il primo gol lo segna lui mi piace stiamo giocando già benissimo prima azione di contropiede Lasburi qui stava anche sbagliando a dire la verità però freddissimo davanti al portiere a incrociare non può nulla in realtà sto portiere fa un po' cagare però stiamo già vincendo la cosa mi piace ora il Cesena probabilmente si aprirà noi andremo con la nostra solita tattica di contropiede e magari potremo provare a segnarne un altro sperando che il Cesena non segni qui con Cascione messo a terra c'è calcio di punizione per il Cesena va a batterlo Renzetti io mi metto sulla linea come un figlio di Troia però qui c'è uno schema infatti si l'appoggia di Roberto che prova una bomba Kasami la tiene ok riusciamo a uscire che cazzo che cazzo hai combinato che cazzo hai combinato porca puttana chi sei guardate qua io la passo lui non si sa cosa stia combinando e poi qui credo sia Zurich implacabile è la piazza Lika Pereira prova a far partire Somba Longa Somba Longa la tiene appoggia dentro per Lansbury ancora ancora Lansbury subito 2 a 1 Nottingham Forest Lansbury singla una doppietta giocatore che se non sbaglio gioca mezzala ma già mi sta piacendo come si inserisce ottimazione qui prima sulla fascia poi a Somba Longa che fa la sponda e appoggia a Lansbury che la piazza sull'altro lato spiazza il portiere 2 a 1 Nottingham Forest doppietta di Lansbury a Somba Longa la tiene perfetta per Lansbury quindi Dumitru sulla fascia che sta facendo il devasto lì ancora Dumitru la tiene palla dentro ancora per Lansbury grande parola di Bardini stiamo attaccando tantissimo ok finisce qui il pro tempo stiamo vincendo 2 a 1 intanto qui il Cesena fa un cambio entra la Ribi se non ho letto male ed esce schiavone e noi però proveremo ancora a prestare come abbiamo fatto stiamo prestando tantissimo il 2 a 1 un po' addirittura un risultato stretto attenzione qui con una somba lunga ma non riusciamo su tre cambi entrano Sebacol Bendner e Lam non ricordo rispettivamente per chi Carajol si ho sbagliato totalmente a leggere perché non è che ci veda molto io senza occhiali comunque qui il Cesena attenzione si fa avanti con Rodriguez recupera Stojkovic ottima parata mette fuori Bardini quindi Fox appoggia dietro per Lam quindi dentro per l'Asbury che prova la bomba fuori ma finisce così secondo tempo senza molte emozioni l'Asbury fa una doppietta ottima comunque abbiamo meritato diciamo secondo le statistiche e niente io direi che andiamo ad avvicinarsi alla partita con il Palermo ok ci avviciniamo alla partita col Palermo l'Inter rifiuta un'offerta per Yao Guy perché dice che è troppo prezioso bla 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 allora dovremmo offrire un milione vediamo se magari chissà cazzo un milione un milione e sette ci potrebbe anche stare no? e andiamo ancora avanti avviciniamoci alla partita col Palermo vediamo arrivano tre mail tre mail tre mail tre mail ho sta su un'offerta bassa non sono interessati e non sono interessati neanche per Bell e Royal allora chi ha un offerto qui Friat ma era anche abbastanza ovvio però affidere Piniglio su un altro terzino terzino per terzino magari chissà e lo Schalke non è interessato a Smith ovviamente non ho capito perché non posso offrire l'altro portiere però 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 proverei a offrire a questo punto qualcun altro tipo Cash che non sono soldi Cash ma questa era brutta e poi Dumitru vuole giocare perché si sente in forma infatti magari si lo facciamo giocare anzi col Palermo sapete che vi dico la simulo perché altrimenti poi diventa troppo lungo l'episodio vorrei concentrare un po' più sul mercato guarda la guardiamo Bruno Enrique è andato a sbagliare il rigore per il Palermo non succede ancora niente tra l'altro non ho fatto giocare Dumitru non ho neanche convocato un po' mi dispiace perché ho già fatto bene poi mi sono rotto il cazzo facciamo uno a uno che comunque va bene segna ancora Lansbury e che altro siamo primi dobbiamo giocare con Lansbury ma credo che appunto basti un pareggio sì e niente ok abbiamo tre email ne ho un po' di chi è ho tutte offerte basse Dumitru è deluso vabbè sti cazzi offerta bassa offerta bassa per Baccali tutto perché i nostri giocatori fanno cagare e non gli interessa quindi dato che Osborne non lo vogliono noi proviamo a offrirgli proviamo a offrirgli proviamo a offrirgli Osborne non lo vuole proviamo con l'Ikai persino che comunque per il PSG dato che avevano offerto Hobbs e non volevano questo centrale proviamo a offrire quell'altro che dovrebbe essere Mills siamo comunque lì ok andiamo ancora avanti dobbiamo fare un attimo gli allenamenti non arrivano comunque mail che cosa triste mettiamo sempre gli stessi speriamo che salga qualcuno vediamo un po' tutti gli allenamenti di merda il vento non può salire perché siamo ancora aspetta ho sbagliato nulla avanti siamo ancora al secondo allenamento e arrivano tre email allora offerta città dall'Inter e Yawgai per un milione che comunque potrebbe sembrare tanto però Yawgai è un giocatore comunque che cresce che comunque noi terremo per tanto tempo il giocatore è il turnover ma con 20enne può crescere ripeto offerta bassa città per la nazionale sticazzi allora offerta bassa non vogliono cash e allora noi a questo punto proviamo a fare un'offerta da dato che vogliono 5 milioni da 2 milioni sperando magari che ne so di vendere l'altro portiere ma comunque scoprirò perché non me lo fa non lo fa mettere come contropartita e andiamo ad avanzare la partita con Lange Makalala offerta per il trasferimento per Warral che non so chi sia un nostro centrale sinceramente te ne puoi anche andare e offerta bassa dal PSG offerta bassa dal Valencia offerta bassa dallo Sasuna non sono interessati al giocatore allora io a questo punto che non vogliono Pinillos che non so essenzialmente chi sia provo a offrirgli in cambio Fox sinceramente a me interessa prendere questi giocatori e infatti allo stesso modo per lui proverei a offrire un po' chi ci offre la casa proverei a offrire proverei a offrire proverei a offrire proviamo con Pinillos totalmente a caso offriamo un po' tutti un po' la mia zoccola e Mills quando lo vogliono e proviamo a dare in cambio Osborne magari e osseremo a 3 milioni per Vekipembe perché ottimo difensore anche se abbiamo preso già Iaogai quindi magari ci pensiamo un attimo simuliamo anche la partita con Lange perché tanto ci basta un pareggio spero di non perdere perché se no siamo fottuti vediamo un po' vediamo un po' vinciamo 3 a 0 segnano a San Volonga Fox e Perera che viene espulso vabbè ma sti cazzi quindi passiamo abbiamo degli altri soldi e arrivano due email premio torneo ci danno 1.2 milioni va bene perere qualificato per la partita e io in realtà avevo chiesto informazioni anche per altri giocatori che non mi hanno proprio cagato e andiamo ancora avanti però qui chiuderemo l'episodio arriva un'offerta per Smith Smith dal Morecambe è il nostro terzo portiere quindi io lo diamo in cambio va bene poi 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 a questo punto dato che non arrivano mail per quanto riguarda gli altri giocatori io proverei fare che cosa un'offerta per Gerrard allora ma forse l'informazione non ce la fa chiedere perché vabbè giusto offriamo un milione per Gerrard che comunque vale un milione e quattro potrebbero anche lasciarcelo andare il difensore l'abbiamo preso quindi Kimpambia lasciamolo un attimo stare io mi mi fionderei più che altro su qualcuno di più avanzato nel ruolo diciamo quindi per esempio proviamo a chiedere nuove informazioni le avevo già chieste per Kennedy io proverei a fare un'offerta da quattro milioni comunque vale nove quindi difficile che ce la cettino però quattro milioni dovrebbe essere una cosa abbastanza buona per Baccali siamo ancora in trattativa Pavon non ho più chiesto quindi chiedo informazioni al Boca per Pavon e chiedo le studiante se mi hanno detto che era appena arrivato però noi proviamo a fare dato che è scadenza noi proviamo a chiedere un prestito per un anno e facciamo riscatto a 6 milioni vediamo se ce lo fanno fare non credo no infatti troppo giustamente proviamo a farla a 3 milioni vediamo un po' ok 3 milioni ce la fanno fare proviamo sta formula che lo anche mando a seguire vediamo un po' come se ne vale effettivamente la pena e niente cosa abbiamo qua avanziamo ancora di un giorno arriva una mail anzi 4 arrivano Baccali troppo basso lo Schalke dicono che Fennel Reuter vale più di quanto abbiamo offerto noi ovvero 2 milioni quindi proviamo a salire a 2 e mezzo 2 e 6 va stiamo salendo un po' troppo e Kennedy abbiamo detto 9 milioni ma già lo sapevamo ho solamente sbagliato io e abbiamo la partita con i Rangers squadra ovviamente scozzise però io vi dico che il video finisce qui ci caricherò questi due video in due giorni diversi ovviamente e voglio tutti i vostri suggerimenti tanti vostri commenti ditemi cosa vi piace cosa non vi sta piacendo ditemi se devo comprare qualcun altro se non so ditemi qualsiasi cosa ditemi quello che volete io sono a vostra disposizione intanto io vi saluto qui è Alfred ci vediamo alla prossima ciao a tutti